Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di approfondimento di Assalto Imperiale, modalità di gioco scontro diretto, proposto da ragazzi da Ludic Incoming. All'interno di questo video iniziamo in questo primissimo video, sarà la prima di due puntate, dedicata alla grande espansione contenuta all'interno della Wave 5 e conclusiva della stessa, Ritorno a Dot. Ritorno a Dot si presenta esattamente come ombre gemelle, ovvero un'espansione grande, che non è più un blister singolo come siamo abituati a vedere, ma è una vera e propria espansione contenendo nuovi tasselli, nuove miniature, nuovi modelli, nuovi token. Sono presenti nuove mappe, nuovi scenari e soprattutto aggiunte per la campagna. Come sappiamo il nostro focus si incentra principalmente sulla variante skirmish, variante sulla quale appunto faremo i nostri approfondimenti come abbiamo sempre fatto finora. Anche oggi nella parte di video che vedremo approfondiremo la parte ribelle e la parte scam, per poi vedere nel prossimo e conclusivo video la parte imperiale e trarre le conclusioni su questa espansione. Ora ci tengo a precisare che essendo luglio siamo arrivati ovviamente al periodo delle vacanze, delle ferie, dello stop dal gioco. Già a luglio è stato un mese in cui il gioco organizzato è andato palesemente a scemare a livello nazionale oltre che a livello locale. Pertanto con questi due ultimi video ci salutiamo per darci nuovamente appuntamento a settembre. Ma prima di fare questo grande saluto è importante comunque continuare con il nostro programma di realizzazione di video di approfondimento e diffondere ovviamente la cultura per lo scontro diretto, ovvero per lo skirmish di assalto imperiale. Iniziamo la trattazione di Hoth partendo dalla mia fazione preferita, ovvero dei ribelli. All'interno di questa grande espansione sono presenti, diciamo, tre modelli propri, che sono giocabili sia nella campagna che nello skirmish, che sono tre eroi per la fazione dei ribelli. Il primo che vediamo è Loku con Oloa. Loku si presenta come un personaggio molto economico. Di fatto abbiamo al costo 4 una spia, perché è il suo tratto, con 4 salute, movimento 5, quindi velocità 5, difende col bianco e attacco a distanza un blu, un rosso. Viene di base con un più 2 la precisione, che unito al blu-rosso gli garantisce una gittata media sul 6, non mi vorrei sbilanciare troppo, col blu è medio ottenere 4 come gittata, diciamo che 5-6 giochiamo safe con questo personaggio. Impulso la più un danno, impulso la perforante 1. Ora, ha un'abilità passiva molto carina, che dice, quando sconfiggiamo un modello con la sua abilità, che di fatto è la sua abilità attiva, puntare il mirino, Loku diventa automaticamente concentrato. Allora, la domanda che ci facciamo è, che cosa fa questa puntare il mirino? Intanto spreca due azioni, pertanto vincola il nostro personaggio a stare completamente fermo. La cosa interessante è che questo attacco, però, beneficerà dell'assenza di copertura nella linea di vista, pertanto potremo sparare anche da dietro, coperti da unità a noi amiche o nemiche, e beneficerà di un più 2 la precisione. Portandolo, pertanto, ad un più 4 alla precisione ed ignora la copertura della linea di vista. Che significa più 4 alla precisione? Significa che questo signore arriva a sparare a un 7-8, che è una bellissima cecchinata. Immaginate che questo modello sia poi a sua volta focusato, attaccheremo a gittata alta, ignorando la linea di vista, sparando con un rosso, un blu e un verde, e con quei due impulsi, avremo sicuramente la possibilità di uccidere un modello già ferito, e quindi far attivare la sua abilità non attiva, quindi la sua abilità passiva, che lo farà tornare di nuovo concentrato per poi sparare il turno dopo. Abbiamo visto, nella puntata precedente, l'approfondimento sui Twins, immaginate già di poter utilizzare questo personaggio all'interno di una Twins, sfruttando non solo l'attacco aggiuntivo di Leia, la possibilità di far triggerare un altro attacco con Leia, ma soprattutto il tratto spia, visto già le considerazioni che abbiamo fatto nel video precedente, quindi non ve lo scortate mai. L'Ocu è un personaggio indubbiamente interessante, che può dir la sua, se giocato con attenzione. Io, personalmente, lo reputo una versione potenziale di Mac. Mac, per 3 punti, era stato troppo spesso considerato un filler. L'Ocu, per 4 punti, ovvero un punto in più di Mac, può dir la sua, e può essere incisivo in determinati contesti. Ovviamente, vista la sua fragilità, e vista la sua scarsa mobilità, se lo vogliamo utilizzare come cecchino al pieno della sua forza, fate veramente tanta attenzione quando lo giocate. L'Ocu si presenta con una carta molto carina, che è sostanzialmente la sua abilità, è una carta comando dal costo 2, che, come la sua abilità principale, permette di effettuare un attacco sprecando, diciamo, sue due azioni. Che cosa dice attacco coordinato? Intanto, come dicevo, appunto, costo 2 punti, utilizzabile solamente da L'Ocu, spendo due azioni, scelgo un modello alleato, quindi un modello amico, entro 3 caselle da me, e posso fare entrambi attaccare un bersaglio in linea di vista. Tenete presente che, anche per questi attacchi, il bersaglio non viene ostruito in linea di vista, pertanto io riesco di fatto a scegliere anche un bersaglio che non riesco a vedere. Quindi io scelgo un bersaglio che riesco comunque a colpire, io e un modello alleato entro 3 da me, effettuiamo un attacco coordinato su di lui, quindi effettuiamo un attacco insieme, e gli attacchi non sono coperti dalla linea di vista altrui, di modelli amici o modelli nemici. Tenete presente che, come vedete, come effetto è molto simile all'abilità di Leia. Ovviamente è una one shot, perché è una carta a comando, e soprattutto sono, diciamo, presenti alcune controindicazioni. Intanto tenete presente che non vale l'abilità passiva di Loku, e soprattutto non vale l'abilità, di fatto l'abilità passiva di Loku, e non abbiamo il bonus della più 2 precisione dell'attiva, quella che costa 2 azioni per Loku. Anche questa è una carta molto carina, che vi consiglio di sfruttare nel momento migliore, quando avete la possibilità di poter effettuare un attacco doppio, che possa uccidere il nostro avversario, specialmente usatela per modelli, ovviamente, sui quali valga la pena sparare tanto. Un altro personaggio che si presenta all'interno dell'uscita Ritorno a Dot, per la fazione Ribelle, è Verena Talos. Verena Talos è un modello molto importante, perché è un modello che ha la versatilità sia del corpo a corpo che del ranged. È un modello costosetto, abbiamo per 8 punti una spia lottatore, che ha 11 ferite, velocità 4, difesa nero, attacco verde e blu a distanza. Ha un pare impulso di base, quindi sappiamo benissimo che nero e pare impulso di base è un'ottima difesa, ha due impulsi, uno con pierce 1, quindi perforante 1, e un altro con più 2 danni. Abbiamo due abilità, una che è un'abilità vera e propria, l'altra è un critico che triggerà un effetto. La prima abilità dice scontro ravvicinato, effettuo un attacco su un bersaglio a me adiacente, utilizzando la sua tipologia di attacco e i suoi dadi dalla sua riserva di dadi, ovviamente quando lui attacca. Che significa? Significa che se stiamo vicino ad esempio ad un Wookie nemico o ad una guardia imperiale nemica, noi effettuiamo un attacco con la loro tipologia, quindi melee oppure ranged, qualora abbia l'attacco ranged, usando i propri dadi. Quindi nel caso del Wookie attaccheremo con un verde e con un rosso, nel caso della guardia imperiale con un giallo e con un rosso, e così via. Il suo critico è molto interessante perché dice dopo che questo attacco è stato effettuato con successo, quindi dopo che io ho effettuato e rifatto l'attacco, sia che abbia menato con la prima abilità, che abbia menato con l'attacco a distanza, se il modello è adiacente, effetto un attacco melee contro di esso, utilizzando un rosso e applico più un danno al risultato di questo attacco. Ovviamente limitato una volta per round, quindi vuol dire che se io ho fatto un attacco, posso usare un surge per effettuare un altro attacco con un solo dado rosso più uno, più un danno. Una pingatina che in più non guasta mai. Ops, abbiamo fatti i danni! Allora, che significa sostanzialmente questa cosa? Significa che noi effettuiamo un attacco, immaginatelo molto, appunto lui è una spia dottatore, quindi in realtà è una spia molto insolita. Di fatto è un guerriero che tende a ingaggiare subito il corpo a corpo e ve ne rendete conto anche dalle undici ferite, che sono insolite per un modello appunto col tratto spia. Che significa questa cosa? Significa che noi lo mandiamo sotto a fare un doppio attacco, un attacco diretto e una pingata, per ovviamente assicurarci di portare a casa il nostro modello e scappare quanto prima il più possibile. La carta comando che è presente con Verena è agente speciale, anche essa costa due punti, anche se utilizzabile solamente la Verena, e dice che quando noi utilizziamo l'abilità scontro ravvicinato possiamo automaticamente concentrarci, quindi andremo ad aggiungere oltre alla riserva dei dadi del nostro avversario che scegliamo per attaccarlo con i suoi dadi, aggiungiamo un verde dettato dall'essere concentrato e più un surge. Quindi di fatto aumenta la possibilità che triggeri anche l'attacco aggiuntivo dettato dal rosso più un danno. Carta carina, personalmente se gioco a Verena non vedo ragioni per non giocare questa carta in quanto è molto molto forte. Non mi convince il fatto di dover essere vicini al nostro avversario, perché è indubbiamente un qualcosa molto rischioso per lei. Però se vi piace questo personaggio fatelo e sfruttatela soprattutto al meglio. Il terzo e ultimo modello che vi faccio vedere all'interno dell'uscita di Hoth, che è di fatto il terzo e ultimo modello e presente all'interno di questa grande espansione per la fazione dei ribelli, è il droide MHD-19. Al costo di 5 punti abbiamo un droide, 7 ferite, 4 di velocità, difende col nero e attacca a distanza con un blu e con un giallo, che ha anche Bay Surge, in quanto i suoi impulsi dicono il primo si concentra, il secondo aggiunge un danno, il terzo recupera due ferite. Qual è l'abilità principale di questo droide? Indubbiamente non è quella di menare di essere un droide offensivo, ma di essere, come gli altri droidi visti finora R2-D2-C3PO, un droide di supporto. Questo significa che il suo ruolo sarà quello di andare in giro a curare o comunque a supportare i nostri modelli. Appunto dicevo curare, perché? Perché fra le sue abilità attive c'è un'abilità che permette di curare o se stesso o una miniatura adiacente di 3 ferite e questa cosa è veramente, veramente tanto incisiva. Pensate a un Luke Skywalker, una lei o comunque un altro personaggio, ma anche a un Gideon che vengono feriti, se voi avvicinate con MHD e li curate, di fatto li ripristinate quasi completamente e fare i loro danni, portarli a casa diventerà veramente, veramente difficile per il nostro avversario. Ha anche un'abilità di debuff, se così lo vogliamo chiamare, ai modelli nemici, in quanto se si avvicina ad un modello nemico può usare la sua seconda abilità per fare a questo modello nemico un danno e renderlo indebolito. Ora, personalmente io difficilmente manderò in attacco questo personaggio, però ad esempio se si dovesse avvicinare un modello nemico, io potrei ad esempio, prima usare la sua abilità di fargli un danno e indebolirlo e poi come seconda azione sparare anche per recuperare due ferite o comunque migliorare i danni che posso fare a loro. Inoltre poi, se voi ci pensate bene, un MHD19 che si autofocusa è indubbiamente un qualcosa che spara un pool di dadi davvero, davvero, davvero molto incisivo sia in attacco che per autocurarsi. Tenete presente che se poi io riesco anche a tenerlo vicino ai miei modelli in modo tale da poter curare loro sia i supporti che i DPS, ovvero i modelli che fanno danno, è davvero un'ottima aggiunta che per 5 punti male non è. Inoltre, essendo troide, all'interno della strategia dei ribelli con le carte ad esempio, le carte quali Devotion, ovvero devozione che permettono appunto di andare a tutorare carte nel mazzo quali ad esempio Figlio di Skywalker o altre carte pensate quanto può essere incisivo. Diciamo che è una carta personalmente, è una carta molto sinergica con già altri archetipi che esistono per la fazione dei ribelli e secondo me è una delle uscite all'interno di questa scatola migliori della fazione dei ribelli. È possibile anche giocarlo con notevole vantaggio anche in altri archetipi che non sono solamente quelli che abbiamo visto finora la Twins, la spam di Wookiee, ma è possibile giocarlo anche con lo spam di soldati perché comunque stare dietro a curare i soldati o comunque a aiutare i nostri supporti male davvero non è. La carta comando che si presenta con MHD 19 è un qualcosa di davvero sensazionale Intervento miracoloso, anch'essa costa 2, utilizzabile da MHD solamente che questa carta non richiede di essere dentro l'attivazione di MHD è una carta extra attivazione e personalmente se io giocassi MHD mentre per le altre due carte, quella di Logo e quella di Verena possiamo anche scegliere di non giocarle ma se io giocassi MHD questa carta sarebbe sicuramente fra le mie 15 carte comando è veramente senza ombra di dubbio alcuna. Ora, l'espansione Ritorno 8 come vi dicevo non si presenta solamente con carte presenti per la fazione dei ribelli ma ovviamente va a approfondire tutte e tre le fazioni presentando sia per i ribelli che per i scam che per l'impero aggiunte molto interessanti. Nella seconda parte di questo video vedremo la parte scam mentre invece nel secondo e ultimo video che sarà pubblicato venerdì prossimo vedremo la parte imperiale e le carte di affiliazione generica contenute all'interno di questa espansione come per esempio i miglioramenti e le migliori scontri dirette in essa presenti. Iniziamo vedendo la prima unità presente all'interno di questa scatola per i scam e il guampa creatura unica o meglio unica non proprio ovvero singola figura all'interno del gruppo dell'attivazione del guampa perché unica dopo sembra che abbia nome e che ce ne possa essere una sola invece no non ha il pallino come potete vedere costo 5 tratto creatura lottatore 9 ferite velocità 3 difende col nero attacco milì con due rossi l'attacco milì con due rossi è un vanto se mi permettete perché comunque è un attacco incisivo inoltre questo signore aggiunge più un danno di default pertanto di fatto mena con due rossi e con un più danno ha due impulsi uno è stordito l'altro è incalzare due che lo rendono abbastanza diciamo brutale in corpo a corpo andiamo a vedere le abilità che contraddistinguono il guampa intanto è non senziente come possiamo vedere nella terza e ultima abilità passiva la seconda appetito dice che se inizio la nostra attivazione se non ci sono modelli nemici entro tre caselle io ottengo due punti movimento portandolo di fatto a 5 di movimento la basetta del guampa se ci fate caso è una doppia basetta è una basetta grande non è un singolo modello non occupa una sola casella ma ne occupa ben due la seconda invece è spostamento efficace che gli permette di ignorare tutti quelli che sono i malus e le penalità al movimento rettati da modelli ostili o da terreni pericolosi diciamo da terreni difficili i terreni quelli circondati da blu sostanzialmente da un profilo del genere che cosa notiamo notiamo che il guampa è un modello lentino o meglio è un modello veloce all'inizio ma che risulta lento dopo è un modello fragilino perché nove ferite col nero così a secco se ci concentriamo sopra a sparargli le togliamo con un'attivazione di un gruppo basta anche un gruppo di trooper elite per buttar giù un guampa e la cosa non è bella perché gli concediamo un'attivazione in metà punti di un gruppo di trooper elite ma al tempo stesso ha impulsi non così eccellenti seppur ha un attacco notevole doppio rosso e più uno fa malino il fatto di non essere senziente il fatto di muovere lentamente in late game o comunque una volta avvicinato ai nostri nemici non lo rende una scelta davvero ottimale certo i suoi tratti sono notevoli il suo attacco è notevole ma non vale ancora la pena di essere giocato nonostante creature e lottature siano entrambi buoni tratti davvero non vale la pena di essere giocato all'interno delle nostre liste se volete fare una lista a tema creature potete indubbiamente trarre molto più beneficio dallo spam di nexu elite e di nexu normale supportate da un scelta di personaggi ribelli come c3po e gideon che comunque focusano i nostri nexu rendendoli davvero forti inoltre il beastamer toglie il non senziente nexu rendendoli esattamente quello che vogliamo e il loro movimento 6 è indubbiamente meglio del 3 più 2 all'inizio e 3 solo alla fine wampa mi dispiace ma facevi brutto solamente nel quinto film dei star wars negli altri sei una mezza pippa la versione elite si presenta con delle migliorie abbiamo un costo aumentato da 5 a 8 abbiamo un miglioria delle dei danni che vengono fatti e dei surge di fatto passiamo da più un danno a più due danni passiamo da stordito e incalzare 2 a sanguinante e stordito con un pulse e con l'altro incalzare 3 inoltre aumentiamo anche le ferite passando da 9 a 12 stesso discorso della sua versione regular per 8 punti io posso mettere dentro la mia lista un nexu elite e c3po o un nexu elite e due skimish upgrade per gli scam per ottenere un qualcosa che se focusato e noi comunque roba che focusa dentro la nostra lista la mettiamo un qualcosa che muove meglio mena meglio e vive meglio non capisco davvero perché valga la pena scegliere un guampa sopra un nexu se voi me lo potete dire io sono aperto a qualsiasi vostro opinione o consiglio se mi permettete colorateli perché sono tanto belli sti modelli ma lasciateli morire male lì basta guampa per te valgono le stesse considerazioni fatte prima sei bello sei tanto caro un abbraccione beato te che stai il fresco perché qua noi a milano si stavamo a morire di caldo fortunatamente però la nostra ritorno ad ot non si esaurisce solamente con il guampa ma presenta un qualcosa che all'interno della storia di star wars ovvero di assalto imperiale di fatto ha cambiato le carte in tavola infatto questa espansione ha presentato un'unità per gli scam che era esattamente quello che volevamo un'unità che serviva proprio a questa fazione ovvero un dps con tutti gli attributi che volevamo ovvero il droide assassino hk il droide assassino hk si presenta come doppia figura all'interno del gruppo di attivazioni costa 8 ogni figura costa 4 si presenta con il tratto droide cacciatore ognuno di questi omini di questi droidi assassini si presenta di fatto con 5 ferite velocità 4 difende col nero attacco a distanza blu blu giallo presenta 3 critici 3 impulsi indebolito perforante 1 e più un danno ed ha due abilità passive quando attacca può obbligare il difensore a ripetere un dato di difesa e quando attacca può ripetere il trio di un dato di attacco di fatto fa sbinare il nostro avversario in difesa e fa sbinare il nostro tiro in attacco dato un profilo del genere io onestamente non vedo ragioni per non giocarlo in doppia copia all'interno delle nostre liste avete questo signore che blu blu giallo significa che fa distanze veramente spara dall'altra parte del tavolo se la media di un blu è 4 blu blu giallo significa che noi faremo 4 e 4 e giallo supponiamo che il giallo non faccia distanza comunque abbiamo 8 per sparare ed è veramente tantissimo inoltre col giallo abbiamo anche tanti impulsi potendo far triggerare quasi sempre il più un danno e il perforante 1 ma la cosa veramente forte è il sbinare ovvero far ripetere il tiro del dato in difesa del nostro avversario supponiamo che spariamo contro un bianco lui ci fa un dodge ovvero una schivata in faccia noi lo guardiamo negli occhi molto alla Clint Eastwood e gli diciamo bene se sei uomo me lo ripeti lui così facendo sarà costretto ovviamente a sbinare il dato sarà anche intimorito perché noi l'abbiamo guardato con il nostro far alla Clint Eastwood e se lui è veramente bravo ripeterà la schivata se ovviamente il risultato è 1 su 6 ma aspetto che non schivi anche il secondo attacco subendo in pieno il colpo in petto del nostro droide HK ora i droidi HK seppur molto incisivi specialmente se i fokusadi arrivano a tirare 4 tali che rerollano e fanno sbinare in difesa capirai veramente delle mie di trebbie presentano un problema molto grave ovvero quello di essere veramente fragili perché 5 ferite e difesa col nero significa che se li toccate cadono inoltre 4 punti l'uno 8 il gruppo non è che so pochissimi comunque loro costicchiano ma perché è giusto perché di fatto valgono quello che sono pertanto il consiglio che vi do io è quello di far sì che e quando voi li giocate li giocate con estrema cura quindi primo consiglio sappiate che sono dei glass cannon ovvero DPS ovvero miniature che fanno danno che hanno una potenza di impatto notevole ma che sono fragilissime per questo glass cannon ovvero cannoni di cristallo sparano tanto sparano bene sparano lontano ma se gli spari addosso cascano che significa questo significa giocate a nascondino uscite corridoio sparate vi rinascondete uscite sparate vi rinascondete non li fate uscire ad assalto perché ovviamente rischiate ok deportabbi dietro le miniature ma deportabbi dietro anche loro quindi questa cosa è sconsigliatissima pertanto a me piace moltissimo usare una parola che è la tattica vietcong giocate con i droidi assassini come se foste dei vietcong uscite sparate vi rinascondete questo è il modo migliore in assoluto per giocare quest'unità e se voi diventate molto abituati a questa tattica e la fate vostra li finirete davvero per amare inoltre droide e cacciatore sono entrambi tratti molto carini che comunque durante l'evoluzione del gioco sono stati potenziati notevolmente e sanno dire la loro il consiglio che vi do io appunto è di capire a pieno l'utilizzo di questa unità capire i loro punti di forza e i loro punti di debolezza che sono quelli che abbiamo evidenziato e soprattutto sfruttarli al meglio pensate già in una lista con accanto un C3PO che gli permette di difendere di più e al tempo stesso li focusa quanto possono essere incisivi io meno a distanza grande con un blu blu giallo verde quello che esco e tocco lo faccio saltare in aria poi avendo accanto quindi supporti come C3PO e Gideon che mi permettono di rifocusarmi e quindi di essere incisivo anche i turni successivi ve lo ripeto per l'ultima volta ragazzi sono fragili gli HK giocateli pertanto con la dovuta premura dopo aver visto la loro versione regular andiamo a vedere anche la loro versione elite con un aumento in 3 punti pertanto abbiamo 11 punti con un costo di schieramento singolo un costo di rinforzo pari a 6 abbiamo la versione elite dei droidi HK che cosa cambia rispetto alla versione base a parte il costo cambia che questi signori hanno di fatto alcune migliorie la prima miglioria che notiamo è che la loro salute passa da 5 a 4 da 5 a 6 perdono ok per 3 punti magari ci posso stare un'altra miglioria è che aggiungono un ulteriore surge per avere più un danno quindi loro se riescono a fare tanti danni tanti impulsi pardon hanno la possibilità di poter attingere più volte all'impulso più un danno perché di fatto ne hanno due differenti all'interno della loro griglia degli impulsi se mi permette del termine la terza miglioria è che hanno una passiva che gli permette di ignorare la linea di vista quindi poter sparare anche se il bersaglio è ostruito da modelli amici o da modelli nemici ora personalmente per 3 punti in più in realtà solo l'ischieramento perché di fatto di concessione al nostro avversario sono 4 perché passiamo da un costo di rinforzi da 4 a 6 pertanto ognuno di loro darà più 2 punti rispetto ad un modello regular per una somma totale di 4 punti invece di 3 oggettivamente per 4 punti in più il costo di un HK il fatto di avere una ferita in più di avere più un danno impulso e di avere la non necessità di linea di vista sgombra personalmente non lo reputo un upgrade tale per cui valga la pena giocarli se voi ci pensate bene per 11 punti io riesco a mettere accanto a un mio HK regula riesco a mettere un Gideon che se li focusa e li fa sparare di nuovo con la sua carta o comunque li fa muovere li fa attaccare focusati eccetera eccetera già si ripagano maggiormente rispetto a un droide assassino HK elite pertanto tenete presente che esiste la loro versione elite che è un upgrade sotto alcuni punti di vista ma che nell'economia del gioco non trova molto spazio ora personalmente io non credo in questa carta perché se c'è un qualcosa che abbiamo imparato dallo skirmish è che maggiore il rapporto economicità qualità del pezzo migliora le sue performance in campo e l'HK regular con i suoi 8 divisi in 4 e 4 rappresentano esattamente un'eccellenza in questo rapporto rispetto alla loro versione elite ciò non toglie che comunque la loro versione elite ha dei vantaggi rispetto alla regular che non sono proprio così trascurabili ma è sempre il stesso problema arrivare a 40 punti è un attimo trovare punti per mettere unità più costose non è sempre così facile pertanto anche qui fateci attenzione io personalmente per come li ho visti evolvere all'interno del meta internazionale e del meta locale mi stupisce il fatto che siano stati veramente poco giocati la versione elite però comunque la versione regular è stata fra le scelte principali e veramente determinanti della fazione di discam e ancora oggi wave io vi sto parlando che abbiamo la wave 9 in Italia quella che vi sto raccontando in questo video della wave 5 sono ancora comunque giocati i HK perché comunque sono oggettivamente una miniatura forte ora io vi do il consiglio ovviamente di provare a recuperare una seconda copia di questa carta specialmente la versione regular in modo tale che così possiamo utilizzare la doppia coppia di modelli che abbiamo all'interno della scatola di hot per poter giocare liste in cui ne mettiamo una duplice copia della tua versione regular fortunatamente il nazionale 2017 che si terrà il prossimo febbraio annunciato in questi giorni dalla small play Italia in zona Emilia Romagna nella seconda metà di febbraio comunque avrà come promo dovrebbe almeno avere come promo la carta degli HK di partecipazione double fast quindi un lato c'è la regular un lato c'è l'elite che ci permetterà comunque di sopperire alla necessità di comprare la seconda scatola di hot qualora ovviamente non volessimo farlo cosa che per giunta vi consiglio perché comprarla solamente per averci la copia degli HK perdonatemi ma è un po' un furto però comunque è indubbiamente un qualcosa di molto interessante che possiamo sempre considerare diciamo il modello di vendita di questo gioco seppur certe volte ti costringe a questi multipli è comunque un sistema molto economico ed è un sistema molto 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 veloce rispetto ad altri sistemi di gioco wargames tradizionali che comunque hanno curve dei costi davvero più grandi ragazzi per oggi è tutto già ho fatto un video lunghetto abbiamo raggiunto i 35 minuti spero che ovviamente lo seguiate con interesse io spero di essere stato il più chiaro e di intrattenimento possibile vi do appuntamento a venerdì prossimo con il secondo e ultimo video sul ritorno hot ma soprattutto con i saluti prima di questa nostra pausa estiva ciao ragazzi buon gioco ma soprattutto buona visione a presto grazie a tutti grazie a tutti